Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Oggi finalmente dopo parecchi giorni di utilizzo sono pronto a parlarvi di questo nuovissimo Mi Mix Fold. Ho dovuto ragionare parecchio tempo per capire cosa raccontarvi di questo dispositivo. Ragazzi io l'ho utilizzato come smartphone principale con la mia sim per capire, per cercare di capire a chi poterlo consigliare e soprattutto capire chi già utilizza una macchina come questa, come riesca ad utilizzarla nella vita di tutti i giorni, nella vita quotidiana. Beh, prima di entrare però nel dettaglio di questa chiacchierata ragazzi vi ricordo due semplici cose che sono davvero molto importanti per il mio canale. Iscrivetevi se ancora non lo aveste fatto, mettete un bel like a questo video e attivate la campanellina qui sotto, ma soprattutto molto molto importante ragazzi ricordatevi di seguire il mio canale Telegram delle offerte dei minimi storici di Amazon dove al suo interno ho creato anche una sezione dedicata per questo Xiaomi per andare a scaricarvi le foto e i video a massima risoluzione e potervele scaricare e guardarvele con calma e magari così date un'occhiata anche a tutte le offerte che seleziono ogni giorno per voi. Ma detto ciò, cominciamo! Vi avverto fin da subito, quella di oggi non sarà una recensione, ma saranno piuttosto le mie impressioni, ciò che ho avvertito, ciò che ho sentito utilizzando questo pieghevole in questi giorni, in questa decina di giorni, no? Cerco di anticiparvi questa frase proprio perché ragazzi per parlarvi di un prodotto di questo genere, un pieghevole, ci vorrebbe una certa storicità da parte mia, no? Bisognerebbe averne utilizzati diversi per capire quanto peggio o meglio possa funzionare rispetto a quelli già esistenti. Quindi cercherò di raccontarvi le mie impressioni, quelle personali, senza avere comunque mai provato un altro Fold per dieci giorni. Direi che per prima cosa bisogna comunque parlare di dimensioni, peso e portabilità. Ragazzi, è gigantesco, è pesante ed è davvero praticamente improponibile da utilizzare nella tasca di pantaloni quando si va a camminare, si va a fare una passeggiata in giro, no? Premetto che prima di dirvi queste parole ho voluto comunque andare a confrontare le misure di questo Mi Mix rispetto al suo diretto concorrente, se così vogliamo chiamarlo, il Galaxy Z Fold 2. Infatti ragazzi, quest'ultimo è un po' più piccolo, più leggero e questo secondo me nell'uso di tutti i giorni fa la differenza del mondo, sia da chiuso ma anche da aperto. Lui è davvero mastodontico, è un dispositivo particolarmente ingombrante, pesante e poi voglio parlarvi immediatamente anche del design. È palesemente copiato dai dispositivi Samsung, come già detto in unboxing. Si poteva fare qualcosa di più? Probabilmente sì, secondo me. Ricordo bene i primi Mi Mix, dove si dimostrava di essere davvero avanti anni luce, sia per quanto riguarda la parte hardware che design Xiaomi. Ma in questo caso è troppo un prodotto troppo simile, copiato ad altri, poco originale rispetto a tutto il resto della concorrenza. Certo voi mi direte, ma cosa ti vuoi inventare? È uno smartphone pieghevole, o lo pieghi in un modo o lo pieghi in un altro, no? Vero avete ragione, ma credo che comunque rispetto a ciò che avevamo visto anni indietro nel passato da parte di Xiaomi con certe innovazioni, anche per quanto riguarda la parte estetica, mi sarei aspettato un pochettino di più. Come sapete questo fold arriva dal multistore del Zazza, in super l'anteprima e lo ringrazio. Quindi il software non è quello globale, anche se arriverà comunque con il Play Store preinstallato e tutti i servizi di Google che funzionano perfettamente, mentre le applicazioni inutili si possono disinstallare senza nessun problema. E parlando di applicazioni ragazzi sono davvero felice di farvi conoscere lo sponsor di questo video, ovvero Surfshark, la miglior VPN installabile su tutti i vostri smartphone, Mac o PC. La sicurezza e la protezione sono due aspetti molto importanti ed oggi quello che facciamo passa praticamente tutto dalla rete internet, dai nostri acquisti al controllo delle mail ed è per questo che avere una VPN molto importante e se infatti ci permette di non essere tracciati cambiando di fatto l'IP del nostro dispositivo connettendoci su server stranieri come il Canada o la Finlandia, con server molto veloci per non perdere la qualità di navigazione. Questo ci permette finalmente di poter navigare senza paura anche sulle reti wifi libere degli alberghi o degli ospedali senza che nessuno possa accedere ai nostri dati come le password dei nostri conti correnti bancari o molto altro. Ma c'è di più, con una VPN possiamo continuare a guardare qualsiasi serie tv che siano quelle italiane mentre siamo all'estero o viceversa. Inoltre grazie a Surfshark possiamo vedere come il prezzo di alcune prenotazioni di alberghi o aerei cambino al ribasso facendoci risparmiare parecchi parecchi soldini. Come sempre ragazzi prima di parlarvi di un servizio l'ho voluto testare e se ve ne parlo oggi significa che è davvero tutto ok, ma non solo. Grazie al codice sconto personalizzato ed il link in descrizione potrete provare il servizio ed avere accesso ad uno sconto dell'83% dal prezzo di listino oltre a tre mesi aggiuntivi gratuiti. Ma detto ciò torniamo a parlare di questo Xiaomi. Quindi torniamo un attimo a quello che è proprio l'utilizzo quotidiano, ciò che mi ha snervato davvero di più. Andiamoci piano però e con ordine. Il display esterno è troppo stretto e troppo lungo. Nell'utilizzo quotidiano ti fa venire voglia di aprire quello interno e non utilizzare quello esterno e non significa che non sia utilizzabile ma semplicemente secondo me si poteva far di più, ottimizzarlo meglio soprattutto per quanto riguarda le cornici, non è di certo un dispositivo ottimizzato sotto questo punto di vista. Mentre per quanto riguarda la luminosità, la reattività e anche la visione dei contenuti non è affatto male, arriva a 90 Hz e in questo non ho nulla da dire. Non lo trovo comodo ecco, non lo trovo comodo ragazzi, non sono riuscito ad abituarmi. Quindi se da una parte diciamo possiamo promuovere almeno per quanto riguarda le caratteristiche del display esterno, la cosa peggiore è quando andiamo in quello interno da 8,01 pollici con la piega che comunque si vede anche qui, ma è solo a 60 Hz ragazzi, solo 60 Hz. Non voglio nemmeno star qui a sindacare il prezzo del dispositivo perché realmente non so nemmeno quanto valga questo device, mi sembra che costi più di 1300€. Nel momento in cui mi porti un prodotto con delle caratteristiche tecniche pazzesche di cui parleremo dopo, arrivare nel mercato con un pannello a 60 Hz dove la tua più stretta concorrenza ha una macchina praticamente identica che hai anche copiato o tra virgolette hai preso spunto portandomelo con un pannello a 60 Hz quando gli altri lo hanno a 120, secondo me non ci siamo e si nota questa cosa, si nota quando fai gli scroll, quando ti muovi all'interno del menu, vedi che è un pannello a 60 Hz, ragazzi ripeto non è inutilizzabile, ci mancherebbe, ma cavolo, cioè ormai altri pannelli sono a 120 Hz anche nei pieghevoli, insomma potremmo fare uno sforzetto in più, no? Però aspetta perché c'è di peggio? Quando compri una macchina di questo tipo con un display così ampio al suo interno, adesso è anche tutto sporco, pensi di poterci fare tutto quello che faresti con un tablet o con un mini pc, visto che hai un 8 pollici e capisco anche il fatto da parte di Xiaomi di voler portare un dispositivo completamente pulito e privo di fori, ma vi sembra normale che un cristiano debba fare una videochiamata, visto che oggi probabilmente se ne fanno molte di più rispetto a qualsiasi altro periodo della nostra vita e la devo fare utilizzando il display esterno perché è l'unica fotocamera esterna per poter fare le videochiamate e qui davanti c'è qui dentro non ce n'è nemmeno una? Cioè vi rendete conto? Devo fare una videochiamata in zoom con un display di 8 pollici utilizzando questo stretto e lungo. Un'altra cosa che proprio non mi è piaciuta nonostante la sua robustezza, si sente che è fatto davvero bene, è costruito bene, magari meglio anche di altri, le cerniere sono solide, non si ha quella sensazione che ti si rompa in mano quando lo pieghi cioè anche quando fai così con un dito senti che è strutturato, ma non c'è un modo di fissarlo, cioè di tenerlo magari in questa posizione, cioè o lo tieni aperto o lo tieni chiuso, le cerniere non sono registrabili, regolabili, quindi magari quando vuoi tenere lo smartphone così appoggiato sul tavolino utilizzando questa parte di schermo e quest'altro magari scrivere delle mail non puoi, quindi o lo tieni aperto o lo tieni chiuso e anche questo è una cosa assurda su una macchina di questo tipo, visto che la più stretta tua concorrenza ha ottimizzato questa parte delle cornici. Quindi ricapitoliamo, pesante, grande, display interno solo a 60 hertz, con piega visibile come tutti gli altri dispositivi pieghevoli, quindi non è stato fatto qualcosa in più sotto questo punto di vista, mancanza di una fotocamera interna per le videochiamate, non ti danno la possibilità di tenere il dispositivo in una determinata posizione perché le cerniere non te lo permettono, sta aperto o sta chiuso, ed un software come al solito che dovrà essere aggiornato più avanti per capire le reali potenzialità, un po' al solito la Xiaomi, no? Quindi cari ragazzi, se volete sapere come va tutto il resto, continuate a seguire il video, altrimenti stoppate tranquillamente qui e lo capisco, non mi arrabbio. Parliamo di un dispositivo con un processore Snapdragon 888 con 12 giga di RAM e memorie super veloci e questo permettono di far girare lui come un vero e proprio petardo, questo fold ragazzi a livello di prestazioni, hardware e tantissima roba, poi c'è anche un sistema particolarmente studiato per tenere a bada le temperature e lui anche sotto stress in questi giorni di utilizzo non ho mai sentito scaldare, quasi mai, insomma nemmeno giocandoci un pochettino. Probabilmente sarà anche perché il display è solo a 60 hertz, quindi il processore qui magari non deve spingere nemmeno tanto, dimenticavo, sensore dell'impronto è perfetto, wifi ok, gps idem con patate, c'è tutto quello che serve. Un primato che bisogna dare nei confronti di questo dispositivo comunque è legato al reparto fotografico, ha uno di sensori con una tecnologia completamente rivoluzionaria nel mondo degli smartphone, si parla di lenti liquide, tecnologia che dovremo vedere anche sui prossimi dispositivi Huawei, se mai presenteranno ancora smartphone quest'anno non l'ho ben capito, comunque è una tecnologia rivoluzionaria che cambia effettivamente l'utilizzo delle lenti, degli spessori, degli ingombri, utilizza un po' il sistema del nostro occhio, insomma ragazzi è un pippone troppo tecnico, io vi lascio qui sotto in descrizione un link che potete tranquillamente seguire per andare a vedere passo passo come è stato costruito questo sensore. Io non vi farò come al solito pipponi che non servono a nulla, comunque vi sto facendo vedere le fotografie scattate, qualche video e come al solito vi ricordo che all'interno del mio canale Telegram le troverete tutti a massima risoluzione, quindi tra le tante offerte che ogni giorno cerco per voi c'è anche la sezione per questo dispositivo, andate lì e troverete tutto. Ciò che posso dire ragazzi è che nonostante la grande innovazione data da Xiaomi nei confronti di questo Fold per quanto riguarda la parte fotografica, non è di certo il core che più interessa a chi cerca un dispositivo di questo genere rispetto invece a tutti gli altri limiti che ho riscontrato, cioè io credo che la persona che acquista un prodotto di questo tipo non è interessato dal fatto che lui debba scattare fotografie come una reflex, ma piuttosto è interessato ad avere un display pauroso, che lui lo è in realtà, lui si vede bene anche al sole ma non è a 120 Hz, un display esterno che si poteva secondo me ottimizzare meglio con delle cornici un po' meno evidenti, una fotocamera per le videochiamate interne, insomma ragazzi come avete capito per me è molto no e poco sì. Sicuramente a suo favore ecco c'è l'autonomia, c'è una doppia cella che porta a 5.000 rotti miliampere, l'amperaggio totale di questo petardino che si ricarica anche in modo rapido fino a 67 Watt. Beh ragazzi in questi giorni mi ha permesso di fare una mia giornata di quelle anche proprio pesanti, fuori casa, arrivando con oltre il 30 anche 40% di batteria, quindi tanta tanta roba. Considerate però che software cinese alcune volte le applicazioni non ti mandano le notifiche, ovviamente va ad abbattere tutto quello che può consumare, quindi lui sicuramente durerà un po' di più rispetto magari a quello globale, semmai arriverà e sembra proprio di no. Beh ragazzi non so se vi ho raccontato praticamente tutto su questo dispositivo, comunque vi ho già detto il wifi è ok, funziona bene, il bluetooth è di tipo 5 e balle varie, l'audio è pazzesco, ha quattro speaker, due da una parte e due dall'altra, per guardarci un film, per ascoltarci della musica, fa paura, è una radio sto robo, quindi sotto questo punto di vista è tutto ok, mentre ciò che mi rompe è che io volevo provare la modalità desktop, ma non c'è, cioè io ho collegato il cavo tipo C, display esterno, morto, ho provato a attivare la modalità desktop con il software che ho attualmente, ma non c'è, quindi come al solito bisogna aspettare. Da ciò che ho capito ragazzi, probabilmente questo Mi Mix Fold non lo vedremo nel nostro mercato, nel nostro paese, probabilmente se ho mi vuole lavorare ancora, vuole creare un prodotto che funzioni meglio e che magari sia più completo, vuole capire magari probabilmente anche come il mercato risponde ad un prodotto simile. Sono certo che gli amanti di questo genere di prodotto comunque ameranno anche lui, ne sono certo, nonostante i suoi limiti, perché comunque dai, nel reparto fotografico lui è il miglior Fold disponibile oggi, però ripeto, almeno per quanto riguarda, sono più che convinto che chi acquista un prodotto di questo genere sia meno interessato al reparto fotografico, ma gli interessi più tutto il resto, poi ovvio se c'è anche un reparto fotografico da paura, meglio ancora, no? Ovviamente ragazzi questa è una mia opinione, tutta mia, no? E vi aspetto qui sotto per sentire la vostra, soprattutto gli amanti di questi prodotti, no? Vorrei un vostro commento per capire cosa voi pensate di questo Fold, se siete d'accordo con il sottoscritto oppure no? Bene ragazzi, per oggi è proprio tutto, come sempre, se vi va, con tutta calma iscrivetevi al canale, se ancora non lo aveste fatto, attivate la campanellina, mettete un bel like, è quello che dico sempre, qui sotto troverete in descrizione ovviamente il mio link per il canale Telegram, il link al Multistore del Zaza e molto importante anche la South Shark, la VPN di cui vi ho parlato prima, dateci un'occhiata anche perché la potete provare gratuitamente, perché da quando la sto utilizzando mi sento ancora più tranquillo e sicuro di utilizzare il wifi in giro, io non ci avevo mai pensato, ma con tutto quello che sta succedendo in rete ultimamente secondo me ne vale la pena. Ciao ragazzi, alla prossima. Ok ragazzi siamo arrivati in quel punto di video, la mia chiacchierata con voi, so che quando non la faccio vi lamentate, quindi oggi quella chiacchierata c'è. Allora, bisogna amarli questi prodotti, è come l'iPhone 12 mini che io amo perché è piccolo, anche questo si può amare se lo utilizzi nel modo per cui è pensato, quindi se sei un professionista che devi leggere tutto giorno mail, se viaggi molto e ti vuoi guardare un contenuto, un Netflix, un video su YouTube mentre sei in treno, è comodo avere tutto ciò. Quello che non mi è piaciuto non è questo, perché effettivamente se non ci fossero state le mancanze di cui vi ho parlato, sarebbe stato sicuramente diversa poi la mia recensione, la mia chiacchierata, no? Cioè se non ci fosse stata la mancanza della fotocamera interna, se magari lo potevo tenere in questa posizione quando ho appoggiato sul tavolino, se ci fosse stato anche un po' più di ottimizzazione per quanto riguarda display, magari averlo fatto anche un pochettino più piccolo non sarebbe stato male. Alla fine è vero, questo è praticamente un tablet, ma è tutto troppo. Inoltre, la chicca che doveva esserci, cioè la modalità desktop, ragazzi, con il software attuale non c'è, e anche questa cosa. Fortunatamente qui non c'entra niente Xiaomi Italia, ma se mi mandi nel mercato un prodotto che deve fare determinate cose e lo fai uscire con un software che queste cose non le fa, come fai a giustificare questa, cioè, capito? Hai già preparato, il prodotto è pronto, fatto è finito, c'è quella roba lì del software, ma sei talmente frettoloso a dover far uscire quel prodotto che non te ne frega una mazza, cioè, avanti dritta. Poi, un'altra cosa che non mi è piaciuta, ma credo che sia uguale anche per il Fold 2, è che se ti arriva un messaggio vocale di Telegram o di WhatsApp quando hai lo smartphone aperto, cioè non lo puoi fare play riascoltarlo, devi chiuderlo e ascoltarlo, poi torni fuori, ritorni a fare quello che devono piacere questi prodotti, ragazzi, devono piacere. Comunque, grazie a Multistort e Zaza, però io dovevo dirlo. Ciao ragazzi, e alla prossima. Buongiorno a tutti cari ragazzi e bentornati. Allora, questa è una clip registrata in 4K a 60 frame per secondo dal gigantesco mastodontico in super anteprima grazie al Multistort e Zaza Xiaomi Mi Mix Fold. Dispositivo che in tanti aspettavano, che sinceramente mi sta convincendo fino a un certo punto, soprattutto quando si deve andare a camminare come sto facendo oggi e portarsi dietro una mattonella del genere, non è certo facile, soprattutto se pensiamo che nell'altra tasca ho il mio fidato iPhone 12 mini, che davvero si perde nelle tasche, mentre qui è molto più difficile da tenerlo. Tutto sommato però c'è da dire che ci sono molte altre cose che mi sono piaciute, come ad esempio il display interno, che ti permette di fare sicuramente più cose rispetto a uno smartphone normale, quindi tenere aperte due pagine, poter consultare un video YouTube mentre si sta leggendo un notiziario o qualcosa da un'altra parte, quindi sotto questo punto di vista bene e anche a livello video e foto è sicuramente un prodotto interessante che va a migliorarsi rispetto al Fold di Samsung che ancora noi però conosciamo il 2, quindi quello vecchio se così vogliamo, prendete con le pinze il vecchio e quindi un confronto andrà fatto poi con il Fold 3 quando arriverà, se mai Samsung me lo invierà tra l'altro, perché come è successo con il 2 non so se poi avranno intenzione di farmi collaborare per il 3. Ma detto ciò, questa comunque è una clip in 4K, video che una volta partito, quindi una volta dato il rack, ho solo la possibilità di scattare delle foto, non posso passare alla grande angolare, posso fare uno zoom in avanti, sinceramente non so se utilizza l'altra lente o se va semplicemente a fare un crop dell'immagine, adesso sono a 6x, massimo della possibilità diciamo che non mi sembra di vedere grandi qualità video, penso sia proprio un crop dell'immagine, quindi non utilizza diciamo la lente liquida per fare lo zoom. Detto ciò mi sembra molto stabilizzato, fatemi sapere voi invece come vi sembra la qualità dell'audio raccolta, in questo Xiaomi solitamente fa un gran lavoro, ecco parlando di audio, l'audio di questo dispositivo incredibile per quanto riguarda la parte stereo, sto facendo anche un fuoco qui molto vicino su queste foglie per capire come si comporta nei cambiamenti, ma mi sembra molto morbido anche in questo, quindi diciamo che per essere un fold o comunque un prodotto che non è proprio centrato sul reparto foto video non mi sembra male, ripeto non ho avuto possibilità di testare altro ma vabbè, e lì c'è Lana e Deborah, attento faccio uno zoom verso di loro eccolo qua, eccolo qua, zoom 6x verso Deborah e Lana, bene, ciao ragazzi Grazie a tutti